A luglio sono stati immatricolati oltre 1300 rimorchi e semi rimorchi, con un calo del 3% rispetto al 2023, mentre ad agosto la contrazione è stata del 17%. Questo trend negativo porta il dato complessivo dei primi 8 mesi dell'anno a meno 12%, con una perdita in volume di quasi 1300 unità sul 2023 già in flessione sull'anno precedente. Il 2024 si conferma così una anno nero, con ben 7 mesi su 8 in flessione rispetto al 2023. È quanto rileva un RAE, secondo cui il quadro delineato è estremamente preoccupante e senza interventi mirati e concreti da parte del governo, il timore è che le difficoltà del comparto non possano essere risolte in tempi brevi. Lo stallo negli investimenti, inoltre, sta inevitabilmente aggravando l'età media del parco circolante italiano, che ha ormai superato i 17 anni, con gravi conseguenze anche per la sicurezza stradale. Nonostante la gravità della situazione, l'augurio è che il mercato possa reagire, anche grazie ai fondi destinati per il 2024 all'acquisto di veicoli di ultima generazione, compresi quelli per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.